Bentornati allo show, bentornati al Dingo Show. E allora, come vi avevo promesso e come vedete nell'anteprima, dalla copertina dell'anteprima, vi avevo accennato in un precedente video che avrei parlato di Fantomas, come non parlare di questo personaggio letterario ideato nel 1911, nel 1911, dai francesi Marcel Allen e Pierre Souvestre. Protagonista di questi 32 romanzi e successivamente di altri 11, perché era deceduto Pierre Souvestre, Marcel Allen, dopo la scomparsa del coautore, ha continuato per altri 11 romanzi, popolarissimi in Francia, in Europa e specialmente in Italia. In Italia sì, perché in Italia sono stati pubblicati una bella serie di volumi e nel marzo del 1963, la Mondadori pubblica una serie di 35 volumetti, libretti, che ora vi farò vedere. Io ho la serie completa, ma vi faccio vedere qualche copertina. Le splendide copertine di Karel Toll. Logicamente questi romanzi hanno ispirato molti autori, da cinematografici a autori di libri, di fumetti, di opere teatrali, un po' di tutti. Per quanto riguarda il cinema, molti cattivi della serie di James Bond sono stati ispirati a Phantomas. Per quanto riguarda il fumetto, le sorelle Giussani per Diabolic, Max Bunker per Criminal e tanti altri personaggi fumettistici con la K, tipo Killing, Demonia, insomma, eccetera, sono stati ispirati al nostro personaggio, a Phantomas. Anche l'universo Disney, se ci pensiamo bene, col personaggio di Phantomius, di Guido Martina e Giovanni Battista Carpi, hanno creato nel 69 Paperinic, che è molto vicino allo stile sempre di Phantomas. C'è anche da dire che però gli stessi autori, Marcelle Allain e Pierre Souvestre, gli autori di Phantomas, potrebbero essere stati ispirati a sua volta, precedentemente, 4-5 anni prima, dalle avventure del sempre ideato, sempre del francese Maurice Leblanche, Arsenio Lupin, che a differenza di Phantomas è un ladro gentiluomo, mentre il nostro Phantomas è un criminale spietato, è un po' come il Diabolic delle prime storie, che uccide per qualsiasi... per raggiungere il suo scopo, lui non si fa scrupoli a uccidere una persona e a prenderne il posto. Vari personaggi, anche molto simili alla narrativa di Diabolic, l'ispettore Jouve, ora io non li so pronunciare bene, che potrebbe essere Ginko, l'aiutante, amico, giornalista, Jerome Van D'Or, che potrebbe essere Gustavo. E fra l'altro anche la compagna di Phantomas, che è Lady Mood, Beltam, potrebbe essere benissimo Eva Kahn. Quindi, Phantomas ha dato, ha aperto, diciamo così, le porte a questa narrativa thriller polieziesca, che tutt'oggi è ben accettata, ben seguita, specialmente con le avventure di Diabolik, che tutt'ora è scenedicola. Diciamo che è il personaggio che è riuscito a stare in piedi, nonostante la crisi del fumetto e del cartaceo in generale. Bene, vi faccio vedere, io ho la serie Mondadori del 69, completa, però vi faccio vedere qualche numero, qualche copertina, perché le copertine meritano veramente, le ho presi un po' a caso così, sono 35 e vi faccio vedere qualcosa. Sono molto caratteristiche. Allora, questa è del numero 2. Queste copertine un po' surreale, un po' horror. quest'è del numero 3. Questa è del 4. Le ho prese anche abbastanza in fila. Vabbè, questa non è un gran che. E poi, ricorderete la storia all'inafferrabile criminale di Diabolik, questa scena ci ricorda qualcosa. E il primo numero, che è anche questa, o che è del primo numero di Diabolik. e questo è il primo, il primo numero, il primo episodio di Phantomas. E anche qui, il terrore mascherato ricorda molto il re del terrore, la prima storia di Diabolik. Vi aspetto in un prossimo video. Iscrivetevi al canale, al Dingo Show. Un saluto a tutti. Iscrivetevi al canale,